Buongiorno a tutti, sono Leo Diangilla, percussionista professionista da quasi 20 anni, ormai il tempo passa per tutti, e nonché ideatore e fondatore di iPlay Percussion, il primo portale italiano di didattica per percussioni. Questo video lo faccio per ringraziare ufficialmente Drumset Mag perché mi ospita in questa sua edizione di luglio 2016, mi ospita con un articolo che è un resoconto di quello che è stato il mio ultimo workshop che ho tenuto un paio di mesi fa a Santa Maria di Sala in provincia di Venezia, dedicato solo ed esclusivamente al cajon e al pandeiro, ovvero alle due percussioni che io amo chiamare percussioni universali, che sono appunto due strumenti che danno la possibilità di suonare qualsiasi tipo di pulsazione. Alla fine di queste mie due chiacchiere avete la possibilità di vedere anche qualche scatto rubato durante questo workshop. Vi ringrazio, ringrazio tutti per l'attenzione e vi saluto. Ciao, a presto! Ciao, a presto!